Lupus in età pediatrica Andiamo ad approfondire con il professor Marco Cattalini, professore di pediatria presso l'Università degli Studi di Brescia e responsabile della reumatologia pediatrica degli spedali civili. Professor Cattalini, cominciamo da questo. Esiste il lupus in età pediatrica? Sì, il lupus in età pediatrica esiste. Effettivamente è più raro che il lupus nell'età adulta, ma esiste. Poi ovviamente bisogna distinguere che cosa si intende per l'età pediatrica. Diciamo che i casi più frequenti di lupus sono quelli che si verificano nelle giovani adolescenti. Quindi l'età è già quella intorno allo sviluppo, diciamo 12-16 anni, tanto per dare un limite. E' estremamente più raro il lupus in età inferiori, soprattutto sotto i 5 anni, è molto più raro. Che incidenza ha la comparsa del lupus tra i 12 e i 13 anni, come ci stava dicendo, e sotto quell'età? Ha un'incidenza relativamente bassa. Tenete conto, al di là dei numeri che poi sono difficili da quantificare, da memorizzare, si stima che più o meno un decimo degli adulti che hanno una diagnosi di lupus hanno ricevuto questa diagnosi già in età pediatrica e più o meno l'esordio in età pediatrica, inteso intorno appunto all'età adolescenziale, è più o meno un terzo, un quarto rispetto all'incidenza del lupus degli adulti. Nei casi per età inferiori, quindi nei bambini più piccoli a cui accennava, lì parliamo di veramente casi quasi aneddotici, poche centinaia di bambini descritti fondamentalmente. In cosa si differenzia il lupus in età pediatrica rispetto al lupus in età adulta? Ci sono un po' di differenze, non tantissime, nel senso che la stragrande maggioranza delle manifestazioni del lupus dell'età pediatrica è uguale a quella del lupus dell'età adulta. La prima differenza, che siamo una battuta ma non lo è, è che il lupus pediatrico colpisce i bambini e questo vuol dire che è necessario un approccio completamente diverso, sia dal punto di vista della cura del paziente, quindi della gestione, del rapporto col paziente, con i suoi genitori, perché in questo caso c'è il cosiddetto caregiver, che è il genitore, le terapie vanno modulate in base al fatto che sono applicate a soggetti in età di sviluppo, c'è la difficoltà della psicologia e dello sviluppo del bambino che è appunto un essere in sviluppo e quindi tutto questo rende una malattia che è simile tra adulto e bambino peculiare nell'età pediatrica. Poi ci sono anche delle differenze un pochino più sottili proprio nelle vere manifestazioni. Il lupus del bambino ha un po' più manifestazioni neurologiche, è un po' più frequente il coinvolgimento renale, ha un'evoluzione un po' più rapida rispetto a quello che è l'età adulta, ma questi sono quasi dettagli, sono rilevanti ovviamente per il paziente, ma sono differenze poco significative dal punto di vista numerico. Approfondiamo, professor Cattalini, una curiosità, esiste il lupus genetico? Il lupus genetico, una piccola precisazione, se noi parliamo di lupus e genetica, nella maggior parte dei casi parliamo di quei casi che sono dell'età pediatrica, ma anche dell'età adulta, in cui c'è una predisposizione genetica, che vuol dire che ci sono dei geni, ne sono stati identificati almeno 200, che possono dare una predisposizione al lupus, cioè il soggetto con una determinata genetica ha una probabilità maggiore rispetto a un soggetto che non ha queste alterazioni genetiche di sviluppare lupus. Non è detto che lo sviluppi perché la malattia deriva dall'interazione tra ambiente e genetica. Questo è quello che accade in linea generale. Esiste un sottotipo molto, molto raro di bambini che hanno il cosiddetto lupus monogenico, che vuol dire che c'è un singolo gene che si è mutato dal lupus, quindi è un rapporto diretto tra la mutazione del gene e lo sviluppo del lupus. Che differenza c'è tra il lupus genetico e non genetico? Allora, il lupus monogenico per definizione è una malattia più grave, è una malattia esordio precoce. Quindi questi sono quei bambini a cui accennavamo prima che hanno un esordio ultra precoce, addirittura nei primi mesi di vita. Infatti per il pediatra reumatologo un campanello d'allarme per andare a cercare uno di questi geni, perché più di uno in realtà, che possono essere associati al lupus è proprio avere un bambino con un esordio particolarmente precoce e un'evoluzione particolarmente aggressiva, che vuol dire le manifestazioni del lupus, ma estremamente conclamate e con un'evoluzione anche resistente alle terapie. Professor Cattalini, ha senso fare un test per indagare il lupus genetico? No, non ha senso, perché prima di tutto stiamo parlando davvero di casi estremamente rari, stiamo parlando di casi che messi tutti assieme non arrivano probabilmente al centinaio di pazienti descritti nel mondo. Nel mondo? Nel mondo, per cui capisce bene che non avrebbe molto senso applicare un test per questo tipo di manifestazione. Ovviamente nel caso ci sia una spiccata familiarità, per cui una storia di più membri della stessa famiglia, che già noti avere mutazioni, allora questo è un discorso diverso, bisognerà fare tutte le indagini genetiche e di diagnosi prenatale eventualmente disponibili, ma in questo momento non avrebbe nessun senso fare una sorta di screening. Sicuramente la familiarità per lupus in generale non è un fattore sufficiente per andare a cercare queste mutazioni, perché stiamo parlando di malattie molto particolari, molto rare e quindi non sarebbe giustificata una generica familiarità per lupus o per malattie autoimmuni di interesse reumatologico per andare a fare questi test. testo. Come si tratta il lupus in età pediatrica? Ma sostanzialmente si tratta come nell'adulto. I farmaci che utilizziamo sono fondamentalmente gli stessi, dall'idrossiclorochina, il placenil fino agli immunosuppressori, tutti gli altri immunosuppressori, i farmaci più specifici, anti citochine. Ultimamente si stanno utilizzando anche dei farmaci che si usano da un po' di tempo nell'adulto, i GEC inibitori, si stanno utilizzando anche in alcuni casi molto peculiari di lupus in età pediatrica, stiamo sviluppando un po' di esperienza su questo e anche i farmaci di ultima generazione, gli anti-interferone che sono la nifrolumab sostanzialmente, gli anticorpi monoclonali che hanno già un largo utilizzo nell'adulto, si stanno cominciando ad utilizzare anche nel bambino. Diciamo che di solito nel bambino arriviamo un pochino dopo perché si sviluppa l'esperienza sui numeri su pazienti adulti, con i numeri dell'adulto, perché sono malattie più frequenti, quindi questo permette di avere una buona evidenza scientifica, poi a breve passo arrivano anche i pediatri che applicano le stesse terapie. Sempre tenuto conto che applichiamo le stesse terapie in un paziente che di base è diverso perché è un bambino o un adolescente e quindi è un essere in fase di sviluppo e di crescita e questo sicuramente ci dà la necessità di dover modulare la terapia dei problemi che magari non sono presenti nell'età adulta. Professor Catalini, quali sono i possibili effetti collaterali di questi farmaci impiegati nel lupus pediatrico e qual è l'aderenza terapeutica in questa fascia di età? Questa è una domanda complessa perché ovviamente ogni farmaco ha i suoi effetti collaterali, stiamo parlando poi di farmaci sicuramente con un buon profilo di sicurezza ma anche con tanti possibili effetti collaterali per cui mi verrebbe da dire il primo problema è che vanno monitorati strettamente quindi sicuramente il paziente deve essere seguito in maniera molto rigorosa, deve essere seguito in un centro specialistico, i centri di reumatologia pediatrica non sono poi tantissimi, deve essere seguito con continui esami anche soprattutto del sangue per cui il prelievo non è divertente per l'adulto, lo è di meno per il bambino o comunque per il giovane adolescente, spesso richiedono infusioni quindi recovery o comunque dei hospital e quindi hanno sicuramente un impatto importante sulla vita del paziente. Non ultimo tra gli effetti collaterali quelli che cerchiamo sempre di evitare ma più importanti sono gli effetti del cortisone che ha effetti importanti proprio sull'immagine del sé e questo è un punto estremamente delicato in un soggetto come può essere il ragazzo adolescente che sta sviluppando l'immagine del sé in cui l'estetica, se così vogliamo dire, l'aspetto estetico è estremamente importante e quando ci sono questi effetti collaterali ecco che cominciamo ad avere problemi di compliance. Tendenzialmente la compliance in questi ragazzini è molto buona perché questi sono di solito ragazzi che crescono anche prima dei loro coetanei e quindi si assumono l'onere delle terapie perché si accolgono che con le terapie stanno bene, ci sono dei caregiver che sono i genitori che ovviamente sono estremamente motivati a far star bene i loro figli quindi in generale nella pediatria la compliance è buona a patto di avere tutta una rete di supporto per questi pazienti che spesso è difficile da ottenere ma che bisogna sempre ottenere dal pediatra reumatologo alle associazioni pazienti, supporto psicologico e tutto quello che sarebbe bello avere per ogni paziente. A me piace sempre dire professor Catalini che la relazione, la bontà, la qualità della relazione sia parte integrante della cura. Un conto è curare, un conto è prendersi cura e sappiamo che il primo momento del prendersi cura e guardare negli occhi il paziente e capire quali sono i suoi reali bisogni, sono d'accordo su questo. Ecco e allora facciamolo, grazie al professor Marco Catalini.